Cari lettrici e cari lettori, buonasera a tutti. Oggi parliamo di Beatrice d'Este, la quale fu una delle più importanti personalità del Rinascimento. Duchessa di Bari e Milano, al fianco del consorte Ludovico il Moro, contrastò il namico francese durante la prima delle guerre d'Italia. E qui, al mio fianco, abbiamo una rara stampa d'epoca, datata 1902, di dimensioni contenute e perfettamente conservata, la quale stampa ritrae la bellissima Beatrice d'Este di profilo. E per quanto riguarda l'infanzia, Beatrice d'Este nacque il 29 giugno 1475 da Ercole I d'Este, duca di Ferrara, e da Eleonora d'Aragona. E Beatrice, per otto anni, visse a Napoli, alla corte aragonese del nonno Ferrante d'Aragona, appunto re di Napoli. E le parentele di Beatrice con le principali casate italiane destarono interessi nei suoi confronti. Ad esempio il duca di Bari, Ludovico il Moro, il quale era anche reggente al Ducato di Milano, nel 1480 avviò con Ercole I d'Este una trattativa per ottenere la mano della figlia Beatrice, che grazie al consenso di re Ferrante venne subito accettata. Il 17 gennaio 1490 furono celebrate le nozze fra Ludovico e Beatrice nella cappella ducale a Pavia. Il 20 gennaio 1493 Beatrice diede alla luce il primogenito Ercole Massimiliano, la cui nascita determinò una svolta nella politica del Moro, che da quel momento cercò di venire riconosciuto quale legittimo duca di Milano, al posto del nipote Gian Galeazzo Maria. E anche i rapporti tra Beatrice e la cugina Isabella d'Aragona, consorte di Gian Galeazzo Maria, nipote del Moro, si deteriorarono. D'altronde Isabella, capendo le intenzioni dei coniugi, scrisse al padre Alfonso II d'Aragona, futuro re di Napoli, domandandogli aiuto per l'ottenimento del Ducato. Viceversa, il re Ferrante, padre di Alfonso II, non aveva alcuna intenzione di scatenare una guerra, cosicché la situazione rimase stabile finché il re fu in vita. Dopo la nascita del primogenito Ercole, la preoccupazione primaria di Beatrice fu assicurare al figlio la successione al Ducato di Milano, il quale però spettava in via legittima al figlio di sua cugina Isabella. Le tensioni fra le due andarono accumulandosi finché il 25 gennaio 1494 non venne a morte il vecchio re Ferrante. Il suo successore, suo figlio Alfonso II, non esitò a correre in aiuto della figlia Isabella dichiarando guerra al cognato Ludovico. D'altra parte, il moro rispose alle minacce lasciando via libera al re Carlo VIII di Francia di scendere in Italia per conquistare il regno di Napoli. Nel frattempo, il 21 ottobre 1494, moriva il legittimo duca Giangaleazzo Maria e Ludovico ne ottenne, per acclamazione del Senato, il titolo ducale, scavalcando così nella successione il figlio maschio che Giangaleazzo Maria lasciava. L'11 giugno del 1495 Luigi d'Orlean, futuro re di Francia, contravenendo agli ordini di Carlo VIII, il quale era impegnato nel regno di Napoli, occupò con le proprie truppe la città di Novara, dominio degli Sforza, minacciando concretamente di attaccare Milano con l'intenzione di usurpare il ducato che Luigi riteneva suo di diritto. Ludovico a questo punto meditò veramente di abbandonare il ducato, ma la ferrea opposizione della moglie Beatrice d'Este lo convinse a desistere da questa idea. Ludovico non resse all'attenzione e fu colpito pare da un ictus che lo lasciò per breve tempo paralizzato. Beatrice si trovò pertanto da sola a fronteggiare il grave pericolo. Beatrice comunque riuscì a destreggiarsi egregiamente, ad esempio prese i necessari provvedimenti per la difesa e fu allora che il marito la nominò governatrice di Milano. Beatrice decise perciò il 27 giugno 1495 di recarsi da sola all'accampamento militare di Vigevano per animare i capitani contro il nemico francese. Luigi d'Orlean, chiuso dentro Novara, fu così costretto a sopportare un lungo e logorante assedio dal quale uscì sconfitto. Nel 1496 i rapporti fra i due sposi si erano molto logorati a causa della relazione adulterina che il Moro intratteneva con Lucrezia Crivelli, dama di compagnia della moglie Beatrice. E nonostante i malumori Beatrice si trovò gravida per la terza volta. Il parto infine avvenne nella notte fra il 2 e il 3 gennaio 1497 ma né la madre e né il figlio sopravvissero. Ludovico impazzì dal dolore e lo stato trascurato andò in rovina. Nel 1499 Luigi d'Orlean tornò una seconda volta a reclamare il Ducato di Milano e, non essendoci più la fiera Beatrice a fronteggiarlo, ebbe facile gioco sull'avvilito Moro, il quale, dopo una fuga e un breve ritorno, finì i suoi giorni prigioniero in Francia. Per quanto riguarda l'aspetto, Beatrice fu una giovane donna formosa e piacente, con un naso piccolo e leggermente rivolto all'insù, le guance, piene tipiche degli aragonesi, un mento breve e rotondetto, occhi scuri e capelli castani lunghi, fin sotto la vita, che teneva sempre avvolti in un coazzone e con qualche ciocca lasciata ricadere sulle guance. Invece, per quanto riguarda la personalità, Beatrice era di carattere allegro, spensierato e giocoso, ma era anche irriflessiva, violenta e impulsiva e si lasciava facilmente trasportare dall'ira. La quasi totalità degli storici antichi concorda nel giudicare Beatrice la veramente dietro molte azioni e decisioni del marito, sul quale esercitava una enorme influenza, a tal punto da legare la presenza di lei alla prosperità e alla integrità dell'intero stato sforzesco. È da credere, infatti, che senza l'interferenza della moglie, Ludovico non avrebbe mai compiuto il passo di usurpare, a tutti gli effetti, il ducato al nipote che si sarebbe accontentato di continuare a governarlo da reggente come faceva ormai da più di dieci anni. Del resto, sia la sua costante presa nei consigli di guerra e sia, soprattutto, la sua decisa presa di posizione nei concitati giorni in cui l'Orlean minacciava Milano dimostrano che il suo potere decisionale e politico fosse assai consistente. Ebbene, signori, siamo arrivati alla fine del nostro video. Spero di essere stato utile con la condivisione di queste informazioni riguardanti la potente e bellissima Beatrice d'Este. Per questo vi ringrazio, mi raccomando, commentate, iscrivetevi e attivate la campanella e noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto storico a tutti!